buongiorno a tutti ragazzi scusatemi che vedete questa mia faccia di cazzo qui ma sto praticamente facendo i video dell'Egitto allora ultimamente è nato un problema un problema che io volevo caricare dei video sulla mia pagina youtube per quando riguarda il canale blue green screen è praticamente successo adesso ci guardiamo in faccia scusatemi che mi vedete adesso con gli occhi a palla però comunque è normale vediamo se esce l'immagine la mia bella immagine così bella così angelica vediamo se da questa possibilità alle persone di youtube di vedere questo questo evento straordinario che rappresenterebbe quindi vedermi non è uguale a me allora ragazzi il problema è che praticamente sono 4 giorni che la mia pagina youtube si può aprire solo accedendo da un altro canale cioè se io ho intenzione di se avesse intenzione di aprire il mio canale mi esce questa situazione qua allora esce error 500 abbiamo mandato delle scimmie bla 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 per aggiustare il problema allora questo è diventato praticamente un enorme problema perché non posso caricare dei video la stessa cosa immagino che sarà dentro tutti quanti voi però questo muovere il tempo è il mio canale blue green screen me se io volessi accedere al mio canale blue green screen da un'altra pagina allora questo muovere il tempo è il mio canale telegarage ma le viaggi d'accordo vediamo il mio canale i miei canali logicamente preferiti voilà blue green screen se io apro la pagina qui praticamente esce blue green screen il problema è che non posso caricare dei video voilà la pagina blue green screen è uscita però quando devo accedere per aprire la mia pagina esce questo allora come risolverlo? semplice la chiusura intanto non si apre su tre giorni ormai ragazzi come risolverlo? non ti può risolvere in poche parole è inutile vedere tutti questi cazzo di video ieri ho perso tre ore e mezza per cercare di risolvere il problema e il problema non lo risolvete non si risolve il problema non si risolve cioè praticamente voi dovete immaginare che youtube è un social network che fa entrare all'incirca un milione di video potremmo dire un milione di video al giorno calcolate in tutto il mondo quindi automaticamente ci sarà qualche problema di youtube non è un problema né di virus né di niente è un problema di youtube che ci vuole praticamente il suo tempo per risolverlo allora perché ho fatto questo video? perché ieri ho perso tre ore e mezza tre ore e mezza per cercare a manicomio sono andato per cercare di capire come devo risolvere questa situazione e tutti quanti hanno fatto dei video che sono una cacata generale chi si canta con la faccia di scimmietta chi canta con... chi dice... chi canta, chi dice le stronzate chi dice... chi non dice niente alla fin fine sono venuto a sapere andando su google che questo problema non è possibile risolvere il problema mandando magari dei messaggi a youtube non lo risolvete praticamente loro hanno questo problema che stanno cercando di risolverlo l'unica cosa è solo quello di aspettare che il problema si risolva e poi verrà risolto perché è anche un loro interesse perché logicamente loro pubblicizzano i nostri video e quindi automaticamente non vi preoccupate che il problema si risolve si risolve sicuramente ok? quindi questo volevo dire il problema non lo risolvete non andate in giro non perdete la testa 2-3 ore come ho fatto ieri io e quindi lo faccio questo video per evitare che voi perdete tempo come ho perso io non andate e non serve a niente assolutamente il problema c'è youtube sta cercando di risolverlo e basta quando avrà risolto il problema inserirete i vostri video quello la cosa brutta è che noi abbiamo paura che perdiamo il canale e i video ecco questo diciamo che questo è l'incubo nostro però non credo che succederà così perché a youtube non c'è non è un suo interesse perché altrimenti perde tutti i video le monetizzazioni perde tantissimi soldi al giorno quindi verrà risolto il problema senza nessun tipo di problema ciao ragazzi e grazie a tutti per aver seguito spero che seguirete il mio consiglio perché vi dico vi garantisco che non c'è niente da fare aspettate ciao ciao da paolo orlando telegarage mare mia a viaggi se volesse iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale ciao 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 ciao